distingue fra due aspetti fondamentali che costituiscono due delle principali innovazioni teoriche prospettate dal testo, che sono il concetto di rimozione di base e di repressione addizionale. Tramite questi due concetti, dei quali subito dirò, Marcuse integra il discorso di Freud e piega Freud in direzione della sua stessa visione. Per rimozione di base Marcuse intende il fatto che vi è una dose minima di controllo degli istinti che è richiesta dalla civiltà. Ogni civiltà effettivamente richiede un controllo, una minima repressione degli istinti. Non vi è civiltà che non lo faccia. L'errore di Freud sta nell'aver perso di vista il fatto che non ogni civiltà esige lo stesso grado di repressione e in questo modo Freud a contatto con la repressione specifica richiesta dalla società tecnocapitalistica ha indebitamente pensato che ogni civiltà in quanto tale richiedesse quella dose specifica di repressione. Secondo concetto fondamentale messo in campo da Marcuse è quello di repressione addizionale. Cioè il fatto che all'interno della società tecnocapitalistica vige quella che potremmo chiamare, variando liberamente la sintassi di Marx, una plus rimozione. Una plus rimozione del principio di piacere che è richiesta dalla stessa società capitalistica nella sua struttura specifica. Cioè appunto il capitalismo, con buona pace di Freud, si differenzia dalle altre forme di civiltà per il fatto che accanto alla repressione, alla dose minima di rimozione di base richiesta, aggiunge una plus rimozione che è richiesta dalla società capitalistica stessa e che implica quella sì la rimozione fondamentale dei bisogni, della libido e dei desideri. Scrive Marcuse a pagina 79 della sua opera Un'organizzazione repressiva degli istinti si trova alla base di tutte le forme storiche del principio della realtà nella società civile. Se Freud spiega l'organizzazione repressiva degli istinti adducendo l'inconciliabilità esistente fra il principio primario del piacere e il principio della realtà, egli esprime il fatto storico che la civiltà è progredita come dominio organizzato. La discussione seguente è un'estrapolazione che ricava dalla teoria di Freud nozioni e asserzioni in esse implicite solo in una forma reificata, in forma cioè nella quale i processi storici appaiono come processi naturali. Ecco qui la prima critica a Freud. Cioè Freud stesso, vittima della società capitalistica, presenta quelli che sono processi storici come processi naturali e in questo modo cade gli stesso vittima della reificazione. Ciò che Freud non riesce a comprendere, dice Marcuse, è esattamente il principio della repressione addizionale, come qui di seguito spiega. Repressione addizionale, le restrizioni rese necessarie dal potere sociale o dominio sociale. Essa si distingue dalla repressione di base o fondamentale, cioè dalle modificazioni agli istinti strettamente necessarie per il perpetuarsi della razza umana nella civiltà. Ecco, vedete qui il modo in cui Marcuse riconosce con Freud l'esistenza di una repressione necessaria a ogni civiltà, ma poi mostra come la civiltà capitalistica di specifico abbia una plus repressione, ciò che appunto chiama repressione addizionale. A questo concetto fondamentale con cui Marcuse rilegge e reinterpreta Freud deve aggiungersi l'altro concetto decisivo che segna anch'esso una svolta fondamentale rispetto alla teoria freudiana, che è il principio di prestazione, che è appunto, come dice Marcuse a pagina 80, la forma storica prevalente del principio della realtà. La forma storica prevalente del principio della realtà, o se preferite la forma specifica all'interno del quadro tecnocapitalistico in cui si dà il principio di realtà, cioè la repressione degli istinti fondamentali. Ora, in poche parole potremmo dire che il principio di prestazione è quello che nel quadro della società tecnocapitalistica impone ai miseri abitatori della medesima di sacrificare tutte le energie psicofisiche per scopi produttivi e lavorativi. Il capitalismo si pone così come una grandiosa opera titanica di sacrificio dei bisogni umani, dei desideri, in vista di un fine autoreferenziale in sé intrinsecamente insensato. La produzione fine a se stessa, la crescita fine a se stessa, il profitto fine a se stesso, i quali diventano altrettanti scopi in nome dei quali sacrificare tutto quel mondo della vita, degli affetti, dei sentimenti, delle pulsioni che vengono appunto sacrificati in nome di questo principio della prestazione addizionale.